ciao ragazzi allora stamattina prima di partire per questo mio viaggio studio sono ancora venuto a dare l'ultimo saluto ai miei cagnoni anche se a dire la verità parto sereno perché so che li lascio in buone mani io ho due figlie che si sono sono cresciute si mesi mica anche si sono allevate così nella mia passione in mezzo alle esperienze in mezzo a questi cani quindi se la sanno cavare sempre in ogni situazione in modo impeccabile del motivo per il quale io mi posso permettere di girare il mondo a studiare i miei animali e per questo le ringrazio allora avete visto questo titolo no noi nasciamo dei leader naturali e poi roviniamo tutto a causa della nostra dominanza che proprio innata probabilmente causa del nostro ego è nata nella nostra personalità beh prima di iniziare volevo anche ringraziare le tante persone che hanno aderito a questa promozione ha avuto un successo questa promozione sul videocorso per come diventare i leader dei nostri cani che non me lo aspettavo e questo mi fa piacere di un ringraziamento che faccio da parte mia in qualità di cinofilo ma anche da parte di tutti i cani perché riuscire ad avere dei proprietari che iniziano a riflettere che iniziano a voler diventare i leader e non rimanere i dominante è veramente un passo avanti ma specialmente è un passo avanti controcorrente come dicono tanti secondo me controcorrente sono tutti quelli che sono imposti si sono opposti scusate a cosa aveva stabilito natura ma oggi la cinofilia commerciale è talmente travolgente ha talmente cotto le menti delle persone stravolto le menti delle persone contro ogni logica che oggi andare a parlare di natura diventa in modo direi ridicolo controcorrente come sempre ma questo accade tutte le promozioni stamattina mi sono svegliato e ho trovato tre messaggi whatsapp e una mail che mi dicevano no cavolo se potesse ancora spostarla di un giorno perché per impegni il lavoro un altro dice non ce l'ho fatta se no avrei fatto il il bonifico stasera avrei tutti i soldi allora sinceramente per giustizia nei confronti di tutti gli altri ma poi sono a capo di una federazione non posso personalizzare queste iniziative però adesso mi studierò qualcosa da come dire da agevolare ancora in qualche modo fino a me fino a me fino scusate fino a fine mese quelli che sono arrivati in ritardo non ci saranno più le stesse condizioni ma adesso troverete qualcosa poi sulle mie pagine sui miei canali eccetera la cosa più importante invece è quella che forza battere sullo stesso chiodo non è che sta cambiando il mondo canino ma il seme inizia a dare i suoi primi frutti seme che io ho piantato tanti anni fa forza parlare di questi argomenti le persone se ne stanno accorgendo questo è veramente positivo perché volere bene ai nostri animali vuole innanzitutto dire non falli del male sotto il profilo del bene del loro benessere psicologico che è poi legato anche al benessere fisico e tante altre cose l'argomento di oggi è appunto questo che noi nasciamo già siamo fortunati ne siamo già come linear leader naturali spontanei dei nostri cani adesso tra un paio di giorni sarò sulle spiagge di questo stato dove io ho studiato già tre anni fa i branchi di cani eccezionali che loro vivono nella foresta poi si trovano si può dire per fare molte interazioni sulla spiaggia ai confini dell'oceano indiano anche perché alcuni pescano vivono di pesca questi cani altri mangiano scarti dei pescatori comunque la spiaggia è un punto di incontro purtroppo la maggior parte di queste interazioni avvengono di notte come accade sempre io non riesco a documentarle tutte e non riesco neanche a vederle tutte però certo è che tutte le mattine quando nasce l'alba loro sono ancora lì io sono già lì in non so con abiti che mi permettano di correre di spostarmi con loro di osservarli eccetera uno dei motivi che non riesco mai a documentare ciò che vorrei è perché vorrei girare l'india l'incontrario il sole nasce e abbaglia cioè la maggior parte nasce dietro gli alberi della foresta e per me farebbe molto comodo stare vicino all'acqua dell'oceano anche per motivi di sicurezza tre anni fa fui attaccato due volte dai branchi una volta una cosa facile mi buttai solo nell'oceano l'altra volta mi dovete salvare un pescatore che fra l'altro ho trovato la foto di questa persona e i prossimi giorni la voglio pubblicare vorrò vedere se ritrovo questa persona e quindi quelle foto quei video accettabili che posso fare posso farli solo in un momento dove c'è già selleva si è levato un po il sole che c'è già un po di chiaro che mi consente i filmati io devo stare con le spalle alla foresta perché dove c'è anche il sole e cercare di prendere quei pochi cani che mi consentono di interpormi fra loro e la foresta io come sfondo il mare bellissimo dove posso sia fare video che fotografie senza subire gli effetti del sole ma farò il possibile come ho sempre fatto per raccogliere delle informazioni anche perché voglio dire della documentazione delle foto eccetera perché ho intenzione poi di scrivere dei libri su questi cani e su tutti questi studi che io ho fatto una delle cose più meravigliose che ho osservato tre anni fa che spero di ritrovare quest'anno e vedere proprio come sono i leader dei cani alcuni sono leader solo di un branco altre volte sono leader di più branchi probabilmente sono discendenti di questo leader credibile bello nessuno si oppone mai anzi li vanno tutti incontro con entusiasmo lui passa e li riconoscono la leadership non è assolutamente più aggressivo anzi direi che è uno dei più pacifici bellissimi ma le considerazioni che volevo fare rapidamente oggi con noi è che i biologi ci hanno gli studiosi come i coppi ci hanno insegnato che l'evoluzione del cane viene attraverso dei lupi meno abili per la caccia che a un certo punto capiscono che era proprio l'uomo questo altro animale che lasciava dei resti e li consentiva di poter sopravvivere nonostante fossero meno dotati di altri a volte allontanati dai branchi di loro simili eccetera e quindi l'uomo diventa un protagonista è un leader chiunque venga seguito da altri questo anche fra le persone fra gli esseri umani e nel cane che a un certo punto iniziò a seguire seguire l'essere umano che era già più abile in certe situazioni di lui nella caccia e buttava i resti e questi lupi iniziarono a capire che potevano sopravvivere perché i lupi sono carnivori cacciatori ma anche raccoglitori questo non dobbiamo mai dimenticare fra lupi e cani tanti dicono non si può parlare di un cane pensando al lupo no no è bene al contrario ogni volta che pensiamo al cane indipendentemente dalla razza non ci dobbiamo mai dimenticare che dietro c'è un lupo se perdiamo questo andiamo dietro questa cinofilia commerciale che ci vuol convincere che l'abita naturale del cane il divano ma è ben diverso poi basta fare queste considerazioni allo stato brado i cani come tutti gli animali si nascondono di giorno hanno pochissime relazioni di giorno e le hanno tutte di notte immaginate tutti quelli che sono convinti che la miglior cosa lo fanno ovviamente anche per dominanza irresponsabile senza pensarci eccetera li tengono chiusi di di notte quindi chi ha acquistato questi miei video corsi in questi giorni avrà modo di fare tante riflessioni e di cercare di capire come cambiare rapporto per passare sempre più leader e sempre meno dominante magari qualcuno lo farà in futuro ma la cosa più importante che volevo dirvi oggi è che se non fosse per il nostro ego se non fosse perché noi esseri umani siamo in grado di rovinare tutte le meraviglie che la natura hanno arrivato per noi pensate che non avremmo bisogno di studiare cinofilia noi naturalmente saremo già i leader avremo i cani che ci dovrebbero a trovare spontaneamente spontaneamente anche se nati allo stato selvatico è possibile che si avvicinerebbero molto a un certo punto si dovrebbero toccare è possibile che noi potremmo vivere vicino a questi animali che ci piacciono tanto in modo spontaneo riusciamo pensate a farci aggredire dai quegli animali che loro spontaneamente chissà quanti migliaia di anni fa hanno deciso di servirci ed è questa la mia constatazione la mia considerazione che volevo fare con voi stamattina prima di partire noi nasciamo già leader naturali nei nostri cani e roviniamo tutto con la nostra dominanza perché vogliamo decidere tutto noi tutte le cose che noi facciamo senza pensare se possono piacere o meno al nostro cano cane senza dominanze vi lascio con questa riflessione quante cose voi avete fatto dal giorno che avete preso il cane a oggi che facevano innanzitutto comodo a voi e poco al cane bene con questa riflessione vi saluto e vi auguro a tutti buona giornata e a presto vi manderò la documentazione che posso quindi seguitemi che staremo in contatto a presto